Io auguro per i miei genitori, pure per la Bibbia, che stiano bene, così perché li voglio tanto bene. Nel buio dell'inverno una luce apparve. In una grotta all'interno il Salvatore comparve. È la luce, la luce eterna, che il popolo conduce alla vita odierna. Auguri a tutte le figure che amministrano Bologna per un Natale senza paure, pieno di amore che chiunque agogna. Io sto per tanto il Natale, da quando avevo iniziato la scuola e adesso sono convinto che ci stiamo avvicinando. Vorrei dire ai miei genitori che li auguro un buon Natale. Ciao. Salve, siamo i ragazzi della scuola media San Domenico. Siamo lieti di poter augurare al Cardinale tanti auguri. Buon Natale. Salve, siamo i ragazzi della scuola media San Domenico. Glorie, è la scuola media San Domenico. Salve, siamo i ragazzi della scuola media San Domenico. In eccessi stelle. Tanti auguri di buon Natale al nostro caro Cardinale. Salve, siamo i ragazzi della scuola media San Domenico. Salve, siamo i ragazzi della scuola media San Domenico. Salve, siamo i ragazzi della scuola media San Domenico. Salve, siamo i ragazzi della scuola media San Domenico. Grazie a tutti.